Chiusura al traffico del centro cittadino durante il fine settimana e la richiesta avanzata dal Comitato Civico e Ambientale presieduto da Cosimo Panico. L'istanza è stata messa nero su bianco dopo aver preso atto dei dati emersi dai monitoraggi atmosferici effettuati in varie zone del territorio, in cui si è constatato il frequente superamento dei livelli consentiti dalla legge vigente delle polveri sottili ed idrocarburi particolarmente inquinanti e pericolosi per la salute. Grazie